Ciao perline! Allora, oggi per la prima volta ho sperimentato le Zoli Duo e devo dire che sono molto carine, ecco bisogna un po' sperimentarle, oggi ho realizzato questo modulo, ho realizzato anche questo qui, molto carino con dei colori un po' flash, però volevo fare qualcosa di molto estivo. Ero indecisa se fare il tutorial su questo o sull'altro modulino, alla fine ho deciso di fare qualcosa di più semplice, visto che ho poco tempo, e ho deciso di farvi il tutorial di questo modulo. Allora, non gli ho dato ancora il nome, ci penserò nel frattempo prima di caricarlo. Allora, i materiali di cui abbiamo bisogno sono Zoli Duo, 5 destra e 5 sinistra, Rocai 8-0, 15-0, Rocai 11-0, la goccina se volete, la monachella, e un altro colore di 15-0. Se volete, non è necessario, ecco, io per una questione estetica ho scelto di fare l'ultimo giro con delle Rocai 15-0 di un'altra colorazione, ma vi ripeto, non è strettamente necessario, ecco. Allora, il primo passaggio da fare è quello di inserire sull'ago 5 Zoli Duo destra e 5 Zoli Duo sinistra. In pratica, dobbiamo ripetere per 5 volte questa sequenza. Praticamente dobbiamo prendere le 2 Zoli Duo rivolte l'una di fronte all'altra, in questa maniera, per 5 volte. Allora, ragazze, questa è la nostra infilata. A questo punto dobbiamo chiudere a cerchio, ripassando all'interno di tutte le perline e fare i soliti nodini. Allora, ragazze, mi scuso, mi sono dimenticata di dirvi che nel materiale necessario ci vorrà anche un rivoli da 16 mm. Allora, una volta chiuso a cerchio, si verrà a formare questo modulino. Come vedete, proprio dovuta alla conformazione delle Zoli Duo, si verranno a formare due tipi di spazi, questo più largo e questo più stretto. Nello spazio più largo, quindi fuoriuscendo dal foro alto di una Zoli Duo, nello spazio più largo aggiungiamo una 15, una perla da 6 e un'altra 15. E rientriamo nella Zoli Duo successiva. Nello spazio più piccolo, invece, aggiungiamo una 8, 0. Ecco qua. Questi due passaggi dobbiamo farli per tutto il giro. Allora, una volta effettuato questi due passaggi, ci ritroveremo così. Dobbiamo uscire da una perla da 6 mm e inserire sull'ago 4 rocai 11, 1 a 8 e 4 rocai 11. E dobbiamo rientrare all'interno della perla successiva. Questo passaggio dobbiamo farlo per tutto il giro. Effettuato questo passaggio ci ritroveremo così. A questo punto giriamo il lavoro, dove praticamente le Zoli Duo sono piatte, e usciamo dalla 8, 0. Uscendo dalla 8, 0, spero si veda, aggiungiamo due rocai 8, questo serve per l'incastonatura, del rivoli da 16, e rientriamo all'interno della 8 successiva. Ecco qua. Allora, questo passaggio lo facciamo per tutto il giro, dopodiché prendiamo il nostro rivoli, lo inseriamo, stringiamo il lavoro, e passiamo più volte all'interno delle 8, 0. Allora, il nostro rivoli è praticamente incastonato, è bloccato tra le Zoli Duo e le perline. Ecco qua. Allora, una volta effettuato questa incastonatura, dobbiamo portarci ad uscire da una 8, 0. Aggiungiamo sul lago 3, 8, 0, 3, e rientriamo all'interno della 8, 0, della stessa 8, 0, dal lato opposto. Allora, per chi utilizza il filo di nylon, il consiglio è quello di ripassare direttamente all'interno della perla, perché tanto il filo di nylon non si vede, quindi può passare direttamente nella perla. Tra l'altro, facendo questo passaggio, la tripletta sopra la 8, 0, quindi questo modulino qua, si stabilizza molto perché viene tirato molto il filo, passando direttamente nella perla. In ogni caso, chi ha il filo Miyuki, o qualsiasi altro filo da tessitura, le consiglio comunque di passare all'interno della Zoli Duo e della 15. Per chi ha il filo di nylon, passare direttamente all'interno della perla. Questo passaggio lo facciamo per tutto il giro. Ecco qua, abbiamo creato la nostra stellina. Allora, una volta fatto questo passaggio, dobbiamo trovarci ad uscire dalla 8, 0 di punta. Inseriamo sul lago una 11, 0 e ci inseriamo nella 8, 0 laterale. Ecco qua. Dopodiché prendiamo una 8 e ci inseriamo direttamente nella perla. Ecco qua. Dalla perla inseriamo una 8 e ci inseriamo nella 8 della tripletta successiva. Dopodiché prendiamo una 11 e ci inseriamo nuovamente nella punta. Allora, dobbiamo fare questi passaggi fino alla fine del giro. Allora, terminato questo giro, ci ritroveremo così. poi usciamo dalla 11, 0. Si vede, spero. Ok. Allora, adesso dobbiamo utilizzare le 15, 0 dell'altra colorazione. Allora, uscendo dalla 11, 0 aggiungiamo sul lago 2, 15 e ci inseriamo nella 8, 0 prima della perla. Sulla perla aggiungiamo 5 rocai 15 1, 2, 3, 4 e 5 e ci inseriamo nella 8 dopo la perla. Aggiungiamo 2 rocai 15 e ci inseriamo nella 11 sulla 8, 0 di punta dobbiamo aggiungere 3 rocai 15 quindi sulla perla dobbiamo aggiungere 5, 15, 0 tra la 8, 0 e la 11, 0 2 rocai 15, 0 e sulla 8, 0 di punta 3 rocai 15 dobbiamo fare questi 3 passaggi per tutto il giro. Allora, a questo punto, ragazzi, si può dire che il modulino è quasi finito. Dobbiamo soltanto mettere il gancino per la monachella e la goccia chi vuole, chi volesse, insomma chi vuole metterla. Allora, io personalmente ho preferito dare questa forma all'orecchino quindi ho fatto la solina sulla perla e l'ho fatta in questa maniera. sono uscita dalla rocai centrale della perla quindi dalla terza ho aggiunto 6 rocai 15, 0 e rientrata all'interno della 15 nuovamente ripasso un'altra volta ecco qua rientro nuovamente all'interno della 15 ecco qua adesso passiamo attraverso le perline ci incontriamo qui dove metteremo la nostra goccia una volta aggiunti dalla parte opposta del lavoro aggiungiamo la nostra goccina allora io ho aggiunto 2 rocai 11 una goccia e una rocai 11 rientro all'interno della perla della goccia solo della goccia ecco qua aggiungo 2 rocai 11 e rientro nella 15 dalla parte opposta ecco qua adesso ripasso all'interno un'altra volta della goccina per stabilizzare il tutto arrivo ecco qua il nostro modulino è pronto molto estivo molto carino elegante non è pesante per niente e niente spero di essere stata chiara nei vari passaggi ho cambiato l'inquadratura ho scoperto lo zoom ma